... Buonasera, dovrebbe essere mercoledì, il giorno dell'interrogatorio di Claudio Scaiola, arrestato con l'accusa di aver cercato di aiutare il latittante Amedeo Matacena nel suo spostamento da Dubai nel più sicuro Libano. All'ex ministra imperiesi viene ora contestato il concorso esterno in associazione mafiosa. Intanto ieri è stata arrestata all'aeroporto di Nizza la moglie di Matacena. Chiara Rizzo, sentiamo. Mentre c'è grande attesa in vista dell'interrogatorio di Claudio Scaiola, previsto per mercoledì da parte dei magistrati della DIA di Reggio Calabria, prosegue il lavoro degli inquirenti sulla documentazione sequestrata nei giorni scorsi durante le perquisizioni. Materiale preso anche nella villa dell'ex ministro, sulle Ture d'Imperia e nel suo ufficio di Viale Matteotti. Una documentazione ancora tutta da esaminare e valutare, ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Caffiero De Rao. Intanto su Claudio Scaiola pesa la grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, che in un primo momento sembrava esclusa. Intanto ieri all'aeroporto di Nizza è stata arrestata Chiara Rizzo, moglie del latitante Amedeo Matacena, condannato in via definitiva a cinque anni di carcere, che secondo l'accusa Scaiola avrebbe cercato di aiutare nel suo spostamento da Dubai nel più sicuro Libano. La donna aveva detto di volersi presentare alle autorità, ma la polizia ha voluto anticipare i tempi accogliendola subito dopo essere atterrata proveniente da Dubai. Dopo l'interrogatorio di convalida di oggi della Rizzo da parte dei giudici di Exame Provence, competenti per giurisdizione, sarà subito organizzato il suo rientro in Italia. Claudio Scaiola rimane in carcere a Regina Celi e in questi giorni preparerà l'interrogatorio alla luce delle carte dell'inchiesta. La prima volta davanti ai magistrati, su consiglio dei propri legali, si era avvalso della facoltà di non rispondere proprio perché non aveva ancora avuto modo di documentarsi sulle accuse a suo carico. Si attendono anche gli esiti dell'indagine interna annunciata dalla Questura relativa al possibile utilizzo improprio della scorta di Scaiola. Al vaglio degli inquirenti poi numerose intercettazioni tra l'ex ministro e la Rizzo, alcune delle quali effettuate anche tramite i sistemi informatici di Skype e Viber. Sul fronte generale delle indagini sarebbe emerso anche un conto corrente bancario presso la tesoreria della Camera dei Deputati, da dove partivano flussi di denaro destinati a Matacena, che si trova dall'estate scorsa a Dubai per evitare la condanna di cinque anni di carcere. E potrebbe allargarsi anche alla Liguria l'inchiesta sugli appalti dell'Expo 2015 che ha portato in carcere sette persone, tra le quali l'ex senatore Ligula Luigi Grillo e l'ex segretario dell'Udc di Genova Sergio Cattozzo. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori con le prime ammissioni. Potrebbe essere coinvolta anche la Liguria nell'inchiesta sugli appalti dell'Expo che ha portato all'arresto di sette persone, tra le quali l'ex senatore Ligure Luigi Grillo e Sergio Cattozzo, già segretario dell'Udc Genovese. Genova e il progetto di costruzione della nuova diga foranea sarebbero nel mirino della cupola degli appalti, smantellata dall'inchiesta della Procura milanese con il blitz della scorsa settimana. Ne sono convinti gli inquirenti lombardi che nelle prossime ore trasmetteranno alla magistratura di Genova parte delle intercettazioni telefoniche e ambientali, tra le quali una in particolare porterebbe gli inquirenti ad interrogarsi sugli affari della Cricca nel capoluogo Ligure e in tutta la regione. Spetterà poi al procuratore capo Michele Di Lecce decidere se avviare un'indagine autonoma e a chi affidarla. Intanto oggi sono iniziati gli interrogatori degli arrestati con le prime ammissioni dell'imprenditore Enrico Maltauro che inchiodato anche da alcune intercettazioni ambientali non ha potuto nascondere l'evidenza ma ha detto di essere in grado di spiegare la sua posizione in occasione del prossimo interrogatorio. In carcere, oltre a lui, a Luigi Grillo e a Sergio Cattozzo sono finiti anche l'ex parlamentare della DDC Gian Stefano Frigerio, l'ex funzionario del Partito Comunista Primo Greganti e il manager dell'Expo Angelo Paris. Mercoledì sarà anche una giornata decisiva per il destino dell'apporto di Imperia Spa. In tribunale infatti si tornerà ad affrontare la questione del fallimento della società, particolare in un servizio. È prevista per mercoledì mattina in tribunale a Imperia l'udienza che avvierà la fase decisiva del destino dell'apporto di Imperia Spa. Dovrà infatti essere esaminata la richiesta di sospensione del concordato preventivo e quindi di avvio al fallimento della società avanzata dagli amministratori giudiziari nominati dallo stesso tribunale ad affiancare l'amministratore unico Giuseppe Ergirò. La richiesta era stata avanzata in quanto dopo mesi di lavoro non si è visto alcuno spieraglio per poter pensare a una soluzione che garantisca la salvezza e il proseguimento dell'attività della società e dei lavori del porto, società fra l'altro partecipata anche dal Comune. In modo particolare sono due i nodi più complicati da sciogliere. Da una parte la transazione con le banche alle quali la società chiede contemporaneamente di togliere l'ipoteca sullo scalo e concedere denaro fresco per la prosecuzione dei lavori. Dall'altra parte c'è poi la questione del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per una presunta evasione fiscale da 142 milioni di euro. Ormai il tempo stringe e a meno di sorprese dell'ultima ora il destino della Porto Spa potrebbe già essere segnato. Sono stati approvati gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. La documentazione verrà trasmessa per l'approvazione degli organi competenti entro la fine di luglio. Parallelamente l'Aggiunta regionale ha conferito a Filse il mandato di partecipare in nome per conto della regione al capitale sociale dell'Agenzia dei Trasporti per il 40%. Votiamo pagina, passiamo alla cronaca. Il bandito che sabato pomeriggio ha rapinato i negozi di Via Palazzo a Sanremo portando via il contante contenuto nella cassa e poi subito arrestato dalla polizia è fortemente indiziato di essere l'autore di altre rapine avvenute in città. L'uomo al momento dell'arresto ai poliziotti ha detto di essere un collaboratore di giustizia. Sentiamo. Con un'operazione Lampo è stato arrestato il presunto autore della rapina avvenuta l'altro pomeriggio ai danni di un negozio di Via Palazzo a Sanremo. L'uomo che era un collaboratore di giustizia è sospettato di essere l'autore di altre rapine compiute in città. L'uomo di cui le generalità per motivi di riservatezza restano coperte da riservo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Sanremo dopo il colpo che gli ha affruttato circa 600 euro. Dalle prime indagini effettuate dagli inquirenti in queste ultime ore è emerso che il bandito potrebbe essere l'autore di altre due rapine realizzate nelle scorse settimane. Sarebbe infatti stato riconosciuto mentre per una terza rapina è fortemente indiziato di esserne lui l'autore. Pare infatti che sia il colpevole del colpo messo a segno tre mesi fa in centro ai danni della profumeria delle piane in via Squasciati e anche di recente al negozio di prenatale di Piazzerò e Sanremesi dove era fuggito in sella ad una bicicletta. Il modus operandi dell'uomo non è cambiato sembra sia lo stesso vale a dire armato di coltello con lama comune da cucina la stessa che probabilmente teneva in pugno anche sabato pomeriggio. Il bandito è anche indiziato della rapina compiuta alla tabaccheria di via Pietragosti lo scorso 17 aprile. L'uomo che è cittadino italiano al momento dell'arresto di cui è accusato di rapina aggravata ha dichiarato ai poliziotti di essere un collaboratore di giustizia ma ancora non abbiamo la conferma di questo suo stato. Il bandito è stato fermato grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno fornito precise indicazioni sul rapinatore. Tragedia ieri sera a Ventimiglia dove un clochial dei 50 anni è morto annegato alla foce del fiume Roia. Il senzatetto di origine turca si era immerso in acqua quando è stato colpito da un malore. Il suo corpo è stato avvistato da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto e a nulla sono vasi i tentativi di rianimarlo. Si sono svolte oggi al cimitero di Castelvecchio alle spalle del santuario di Santa Maria Maggiore le operazioni di riesumazione della salma di Martina Rossi. La giovane è deceduta quasi tre anni fa dopo essere caduta dal sesto piano di un albergo alle Baleari dove era in vacanza. L'ipotesi del suicidio avanzata dalla polizia spagnola non ha infatti convinto le autorità italiane che ora cercano tracce di violenza sessuale. Vediamo. E' stato riesumato oggi il corpo di Martina Rossi morta nell'agosto del 2011 dopo essere caduta dal terrazzo di una camera al sesto piano di un albergo di Palma di Mallorca dove si trovava in vacanza. La salma della ragazza era stata tumulata nel cimitero d'Imperia una vicenda che la polizia spagnola aveva sbrigativamente classificato subito come suicidio ma sulla quale deve ancora essere fatta chiarezza. Al momento infatti cinque ragazzi aretini rimangono indagati a vario titolo per tentata violenza sessuale e omicidio colposo. La versione del suicidio non ha infatti mai convinto le autorità italiane e per questo ora il procuratore capo Roberto Rossi e la sua sostituta Giulia Maggiore della procura di Arezzo hanno ordinato la riesumazione per una nuova autopsia. Ad essere incaricato è stato il medico legale Marco Di Paolo dell'Università di Pisa dove il corpo della ragazza verrà ora portato per gli esami necessari. Quello che si cerca sono tracce di violenza che possono aprire nuove strade investigative per fare giustizia. Un ragazzo di 28 anni si è presentato presso la questura di Imperio chiedendo aiuto. Sono tre giorni che non mangia avrebbe detto agli agenti e così che una pattuglia del poliziotto di quartiere si è subito interessata alla sua situazione offrendogli un pasto caldo. Dopo aver sentito la sua triste storia dieci anni fa aveva perso entrambi i genitori e da quel momento si era arrangiato così come poteva e dopo aver perso anche il lavoro e con le spese della vita quotidiana gli agenti hanno attivato una vera e propria catena di solidarietà per aiutare il 28enne. Il personale della questura si è mosso per informare i servizi sociali del comune e la Caritas della situazione di questo ragazzo. Inoltre è stato anche aiutato nel compilare i moduli per ottenere un aiuto economico dallo Stato visto la sua situazione di indigenza. Allarme questa mattina al mercato di Sanremo dove si è verificata una fuga di gas sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dopo i primi attimi di tensione tutto si è risolto per il meglio senza alcuna conseguenza. Ora ci fermiamo un istante ma ci sentiamo come sempre subito dopo. Una delegazione di spedizionieri svizzeri ha visitato il porto di Genova per valutare collaborazioni economiche positive è stato il risponso sull'organizzazione interna servono però interventi strategici in termini di infrastrutture e servizi. Chiaro che bisogna conoscere la gente sapere cosa possiamo fare insieme e penso che potremmo sviluppare i traffici nel futuro. Potrebbero aprirsi nuove importanti opportunità per il porto di Genova legate ai rapporti con gli spedizionieri svizzeri. Una loro delegazione ha infatti visitato lo scalo del capoluogo Ligure le potenzialità per fare business comuni ci sono anche se è chiaro che servono alcuni interventi strategici. Siamo sempre nel people business avete un porto che è molto attrezzato che è un terminal che è molto moderno eccetera cosa manca adesso sono i collegamenti dal Genova per la Svizzera è questo che manca. Il porto di Genova ha comunque superato l'esame per quei che riguarda la sua organizzazione interna. diciamo è molto organizzato ci sono i contenitori tutto c'è il rifer collegamenti per la temperatura controllata c'è niente non ci sono problemi questo. La regione Liguria è a favore dell'aumento della percentuale minima di vera frutta nelle bevande analcoliche dall'attuale 12 al 20% una presa di posizione contenuta in un documento approvato dalla stessa giunta in cui si condivide l'iniziativa nazionale della Col di Retti a vantaggio del compatto frutticolo e della salute dei consumatori. Sarà inaugurato il prossimo 19 maggio a Ceriana il primo tratto di strada della circonvallazione che libererà il centro storico dalle auto. Il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio. L'intervento ha costato 1 milione e 100 mila euro prevenienti da fondi regionali e comunali e dalla vendita dei box a privati. L'assessore alle attività e servizi educativi del Comune di Imperio Fabrizio Risso ha fatto sapere che sono aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2014-2015 agli asili nido i cerbiatti di Via Nazionale di Castelvecchio i cuccioli di Piazzetta De Negri a Doneglia e gli scoiattoli di Via Porta Nuova a Porto Maurizio. I moduli per la domanda di ammissione scaricabili anche da internet all'indirizzo comune di Imperio a punto it sono disponibili presso i servizi o un obis del settore servizi sociali prima infanzia attività educative scolastiche del Comune di Imperio con sede in Piazza Dante al Terzo Piano durante i consueti orali di apertura al pubblico. Una notizia l'agentina a calcio è stata promossa direttamente in Serie D. La squadra di Armaditaggio ha infatti vinto ieri a Lavagna per 1-0 allo spareggio con il Magra Azzurri con cui aveva concluso il campionato a pari punti. Intanto a seguito dei responsi delle ultime partite il 20 miglia dalla promozione sale in eccellenza mentre i blu-orange di Ospedaletti retrocedono in prima categoria. Ora ci occupiamo del quadrometrio elaborato da Arpal Meteo di Guglia. vediamo le previsioni per domani martedì 13 maggio il veloce transito di una nuova perturbazione atlantica determina condizioni di spiccata variabilità al mattino sarà soleggiato e regolarmente nuvoloso dal pomeriggio variabile con possibilità di rovesci o temporali umidità su valori medi venti ciclonici da deboli a temporaneamente moderati prevalentemente settentrionali ma con cambi di direzione rinforzi occidentali sul Levante il mare sarà mosso a Ponente trammosso e molto mosso a Levante dopo domani mercoledì 14 maggio bella giornata di sole temperature massime sensibili al locale significativa salita per un possibile effetto alpino umidità su valori bassi venti tra deboli e moderati nord-occidentali mare tra poco mosso e mosso solo localmente molto mosso a Levante bene il nostro giornale si chiude qui come sempre l'appuntamento alle prossime edizioni oppure sul nostro sito imperativo.it grazie dell'ascolto buona serata grazie